è un uovo di pinguino è un uovo di pinguino, vero? qui abbiamo Winter lui è Aghira poi c'è Soldato Kowalski, Rico Kipper sapete come si filanzano i pinguini? io sì allora ve lo spiego subito di solito il maschietto fa la prima mossa inizia a fare una danza con la testa oh ragazzi non balla la break dance fa solo così con la testa alla fine della danza fa un inchino se la femmina accetta fa un inchino a stavolta e si fidanzano e stanno insieme per tutta la vita ragazzi secondo voi perché lui è diverso? ah c'è la torta perché c'è la torta perché c'è la nostra raffa no è piccolino ragazzi va bene Winter non ha ancora nemmeno un anno ma di che specie sono? questi pinguini sono pinguini sud africani ragazzi quindi per questo qui non c'è ghiaccio abbiamo 17 specie di pinguini nel mondo metà vivono al caldo e metà vivono al freddo